Adesso invece arriva il gruppo formato da un centinaio di ragazze che hanno sfilato prima con i rispettivi gruppi. Qualche anno fa si era deciso anche di farle uscite delle coppie. Certo che chi ha avuto quest'idea ha avuto una grande idea perché dal punto di vista spettacolare... Sì, penso che possiamo anche dare a Cesare quel che è di Cesare che l'idea sia stata allora di Ottavio Nielo che propose di far chiudere in bellezza, diciamo così, dando quindi alle donne la palma della rappresentatività sia estetica ma direi anche che le donne sono la forza della costruzione, del mantenimento, della valorizzazione della tradizione. Vai con le immagini, vai paese per paese. Beh, paese per paese e qui si sposta continuamente per cui non sapete da che parte iniziare. Qui vedo da Silanus a Osilo, Sennori, mi pare Irgoli, mi pare Arizzo, che cos'altro posso dire? Insomma, veramente di tutto, tutto ciò che abbiamo visto prima qui è condensato.